Le previsioni per domenica 11 agosto 2024 di Globus Television. Domenica la giornata contraddistinta ovunque da generali condizioni di bel tempo con qualche nube nell'interno. Temperature massime fino a 37 gradi. Mari, Marionio da poco mosso a mosso. Martirreno da calmo a poco mosso. Stretto di Sicilia da poco mosso a quasi calmo. Grazie a tutti.